Siamo alla sagra del fusillo felittese a Felitto, ma è meglio partire dall'inizio di questa storia. Abbiamo parcheggiato la macchina, io torno qui dopo circa quattro anni, cinque forse, e adesso si paga due euro a persona. E vabbè, se questi soldi servono per mantenere il luogo pulito, ben venga. Molto affollato, più del previsto. Adesso se mi ricordo bene c'è un sentiero che dovrebbe allontanarci da tutto questo. Il suono rassicurante dei ponti inferiore. Sto fermati qui. L'acqua è gelata ma fuori fa troppo caldo. Torniamo verso la cascata sperando che si sia un po' sfoltita di persone. Quando tornate indietro, ogni tanto è il caso di lasciarvi qualche segnale. Adesso la strada potrebbe essere di qua o di qua. Vi ho lasciato un piccolo segnale che mi ricorda che la strada giusta è di qua. E' arrivato nel casino. Ma mi sa che un altro bagno ce lo facciamo. Signori, sagra affilitto del fusillo e della... Fusillo. Fusillo. E non è solo il fusillo. E non è buono passato. Come si scagato a vedere intorno. Andate a vedere. E non è solo il luogo. Ma non è l'impegno. Questo è il mondo è stato anche un luogo. Grazie a tutti.